Presidente Renzi mi deve perdonare se sono un po' in disabbie e sono nella mia casa di campagna per cui certamente si tratta di una posizione la mia non adeguata al suo rango però nonostante questa condizione ritengo di dover assolutamente intervenire con urgenza rispetto alle cose che si sono verificate in questi giorni perché ho appreso e la stampa oggi da ampio risalto alla vicenda che su sua denuncia o querela presentata nei confronti di Alessandro Maiorano è stato aperto un procedimento relativamente ad una ipotesi di stalking che Maiorano stesso avrebbe consumato nei suoi confronti. Credo che si tratti di una situazione che noi dobbiamo apprendere con grande soddisfazione perché vede le cose delle quali si parla nel decreto di perquisizione quindi è un atto ufficiale al quale io mi riferisco sono tutte cose alle quali Maiorano ha fatto sempre riferimento nelle decine di denunzie che ha presentato all'autorità giudiziaria di Firenze la quale autorità giudiziaria si è contraddistinta per non aver mai svolto alcuna indagine e soprattutto per aver sempre e soltanto chiesto e ottenuto delle archiviazioni per cui attraverso la sua iniziativa di cui io su tutto sommato la ringrazio e ringrazio il suo avvocato l'avvocato Bagattini che io stimo moltissimo lei ha introdotto in questo nuovo procedimento tutte le questioni che sono state oggetto di specifica denunzia da parte di Maiorano per cui siccome sarà nostro interesse dimostrare che noi non abbiamo fatto nessuna operazione di stalking di calunnia o di diffamazione naturalmente noi saremo presenti in questo processo che attendiamo con ansia per dimostrare che in effetti le cose che sono state oggetto di denunzia da parte di Maiorano sono corrispondenti a verità quindi veramente la ringrazio secondo me non è al suo livello questa iniziativa che ha assunto perché francamente mi sembra un grosso passo falso io da suo difensore non l'avrei sicuramente mai fatto però prendiamo atto della situazione e ci confrontiamo con essa senza nessun problema io le vorrei ricordare le cose delle quali il signor Maior Maiorano non dimentichiamo un uscere ex uscere anzi del comune di Firenze rispetto al quale credo che la levatura della sua posizione la levatura della sua intelligenza la levatura della sua cultura avrebbero dovuto portare ad una certa riflessione perché ognuno fa le cose secondo quelle che sono le sue possibilità e spetta a chi sa di più e chi può capire di più dare alle cose stesse i valori che meritano però le scelte le ha fatte lei e quindi adesso lei se le tiene perché noi naturalmente non possiamo stare in silenzio intanto ovviamente le preannuncio una denunzia per calunnia perché ovviamente avendo accusato di stalking una persona che non ha fatto altro che fare il suo dovere di cittadino facendo presente a chi ti dovere alla magistratura in primo luogo di che cosa lei sarebbe stato capace ecco credo che questa sia una situazione rispetto alla quale lei debba prendere atto che qualsiasi reazione che ci potrà essere sarà assolutamente giustificata però colgo l'occasione siccome si tratta di un documento quello che sto formando che avrà una sua pubblicizzazione naturalmente mi fermo sempre soltanto ai dati oggettivi che emergono dal decreto di perquisizione che peraltro io conoscevo benissimo perché in tutte le iniziative assunte da da majorano io sono stato sempre al suo fianco come suo difensore molto spesso frenandolo perché avrebbe fatto molto di più di quello che in realtà ha fatto ma dico al di là di questo io gliele voglio ricordare le cose che ha denunziato majorano e che lei oggi considera oggetto di stalking le voglio ricordare che molte volte si è rivolta all'autorità giudiziaria rappresentando con documenti e con elementi importanti di cose relative alla sua vita privata della pratica di escort da tutte le parti a cominciare da quella di cui si parla nel decreto di perquisizione di un appartamento in roma dove si sarebbe incontrato con alcune persone a me di queste cose non interessa assolutamente niente però per esempio abbiamo avuto la vicenda di perlusconi e delle cosiddette oggettine di cui giustamente ci si è interessati perché di un politico vogliamo sapere tutto vogliamo sapere come si comporta nel privato vogliamo sapere come si comporta nel pubblico vogliamo sapere ogni cosa della sua vita ecco un punto le volevo ricordare e lo faccio a questo in questo momento lei forse ha dimenticato presentando questa denunzia querela per stalking di essere non solo un uomo pubblico ma uno degli uomini più importanti della repubblica italiana dal punto di vista politico istituzionale nessuno le contesta la grande intelligenza le grandi capacità il le grandi iniziative che ha saputo assumere anche l'ultima della istituzione del nuovo partito che io guardo con molta con